Secondo me ti conviene andare sotto nell'acqua, Roby. Però poi devi girare da sinistra, non puoi più salire, se no. Vai. Ho morto. Eh, guarda, lo sapevo, lo sa, porco, lo sapevo. Ma dove sei sceso, Roby? Ma dove cazzo sei? Ho fatto il ping, ho detto, soldi, manco mai cagato. Cioè, però, qua. Se tu starti, hai preso da lì, Roby. Volevo andare ad Airfield, è scesa più gente del previsto. Ai soldi. No, bisogna andare a ping, si fa una strada di là. E' una tutti qua ai soldi. Oh, la smoke, perché ogni volta mi dimentico. Comunque l'MG del gulag, più spari, più l'arma va a sinistra. C'ha un rinculo che è una roba bizzarra, tutta a sinistra va. Comunque dà fastidio, secondo me, il fatto che non puoi metterti i pugni quando torni dal gulag. Non so se avete capito. C'è gente che scende davanti a me, Roby. Se ne con me, vamo a Lodi. Ma sì, ma le sbatto il cazzo, voglio farle kill. Ma le faccio qua, scusa. Lodi, cioè, vado a fare il Lodi, minchia, a laguna, vado a farlo. Dai, vieni qua, c'è gente qua se vuoi, eh. Pieno. E qua da me è uno, eh. Oddio. Ma che cazzo? Ho fatto una cazzata mettere 20-20, raga. Mi sento lentissimo nei movimenti. Devo riabituarmici subito. Sono a bestemmio. C'è ancora gente da te? Ma in realtà non credo. Ah, ma mi ha dato anche la bomba di prima, mi sa. Sì, perché ne ho sei. No, non penso, sai. Cioè, non lo so. Sicuramente ci sarà gente qua in giro, ma qua close-close no. Ah, per l'altro. Infatti, close-close no. C'ho soltanto uno di fianco. Due, due da me, due da me. Prima di onde? Sfleshati. Bravo. Uno è dentro, uno è dentro, uno è dentro. È uscito? Ti spara? Ho il do sinistra, eh. Bravo. Non sono capace di usare il Bren. Madonna. Ah, è morto, è morto. Facciamo l'Oddy? Ah, non so. Non so, facciamo gli uap, Roby. No, no, anzi, aspetta, no, no, no. C'ho l'STG che è una merda. Dammi, tieni. Fai quello che vuoi. Lancialo dritto di qua, che intanto pusciamo. Bello, ti amo. Lancialo dritto. Rispetto a dove ero io, dritto, cioè. Lancialo dritto di qua, che intanto pusciamo. L'Oddy tirato sullo shop. Et voilà. È arrivato Mustafa. Bella, Roby. Sembrava minchia il pene la mattina quando non sa se vuole alzarsi o meno. Che cosa? Quella prima freccia che hai tirato. Questa è una barzotta, amiche. Ma che ha fatto una colla, eh. Stai dentro in casa, questo. Stai bombardato, vai via via via. O entra. Questo è il camion. Sparai, sparai, sparai che lo buttiamo giù. Provi, spara il camion, io lo buttiamo giù. Eh. È neutralizzato. Beh, tre frecce. Tre frecce più un caricatore mio, se vuoi saperlo. No, ma dobbiamo veramente dare uno stronzo fuori safe così tanto. 27. Fa, l'ho fatto io con panni prima. No, probabilmente, forse no. Eh? Forse non faccio. Oh, cecchino. E nord-ovest, precisamente nord-ovest. La casa davanti a te. Forse ho atterrato uno, sì, sì, infatti qua. È sceso lì, eh. Porco, due, ancora lì che mi spara. Ma da dove? È sopra il tetto, mi sa. Non capisco. Eh sì. È sopra, è sopra, ce l'ho la forza. Aspetta. Minchia, che culo. Ha uno qua sotto. Guarda che buco di culo. Quello l'ho preso. L'altro dov'è? L'altro livello. L'altro è sceso giù sotto. No, quello che è sceso sotto ho preso. Ok, allora l'altro è qua in mezzo. Ok. Dove c'è la viauzza. Traccato. Sto andando. È sopra, è sopra, è sopra lì. Ecco, si muove. Tato. Terra. Minchia, che questo si resta perché non posso entrare. Ti rendi conto? C'è chi non mi mira da dietro? Il compagno. L'ho incastrato. Dove? Secondo lo scolo. Dove c'è il nostro Lodi. Cazzo è lo scolo? Minchia è lo scolo, Robby? Che quello è? Dov'è? Qua sotto, qua sotto, qua sotto. Ce l'ho io. Morto. Lo scolo, sto coso qua. Non so come chiamartelo. Ce l'ho. 3, 2, 1. Bravo. La sto cominciando a odiare comunque, raga, l'automaton, eh. Non mi sta più piacendo tanto. Quanto corre, Marco? Marco B! Porterai Minecraft. Minecraft. Vabbè, no. No, tizito. Caraga, però questo mi ha rotti i coglioni adesso di correre. Dove sta? Ma il minchia va? Wow, per questi fight hanno. Ora ammazzo questi che sono in open. Sì, li ammazzo secondo te questi. Ok, mi sta guardando a me, Barro. È dietro la roccia in Edgrich. È mollato come uno stronzo. Oh no, sta scappando, easy. Qua va, 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 l'ho hittato. Sta andando via. Però è un Edgrich da madonna, ragazzi. Ah, anche questo. C'ha l'Edgrich. Anche quello lì. Dobbiamo girare e prendere questo, Robby. Tieni. È andato dietro, sulla destra. Dietro il casottino qua. C'ha l'evasione in endgame, raga. What? Sotto, 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 sotto. Sai cos'è? E sono due giorni che i compagni stiano notando che sta dando degli eventi così a cazzo, proprio. Mica, raga, l'evasione in quarta safe è abbastanza inutile, cioè. In teoria siamo 17 team, dovrebbero spawnare 5 persone. Bello, fai TaraDox, eh? Ma a me, io raga, sono la para. A me piace in realtà Dox come drop, eh. Certamente lo dico, a me Dox, raga, non dispiace come drop. Guarda, in cielo ce ne sono 27. Sono 5 al massimo, Robby, sono 4 anzi. Va sopra, forse. One flyer, scende qua a destra. Lai, lai, l'ha uno. Ho visto una testa lì, ma non vorrei dire una cazzata, occhio. Ce la taglio davanti, ha arrestato. Beh, allora ho visto male. Ma mi sto già riabituando, raga, la mia sensibilità godo. Va da me. Non penso che mi abbia dato team a nientato, però, eh. No, no, perché questo aveva appena arrestato. Fai il coso, facciamo un V-SAT, va? Vai, tira l'ultimo. Tira l'ultimo, Robby, se no è sprecato. Tiralo, ma non ti shotta, dai. Ciao, ciao, ciao. Tirato il grappolo su quelli lì. Non li hai presi? No, 0, 0. Fa due, minchia, fermi come... Questi, raga, per... Aspetta, vado su piano, perché questo ho già capito che ci crepo. Mi devi arrestare, Robby, preparati. Ti lascio dietro i soldi, eh. All'ingresso delle scale ci sono i miei soldi. Non c'è. Sì, è sceso. Bravo, Bob. Un arrestato a sinistra, Barro, qua davanti a me. Tagliacela di dietro, eh. Un arrestato anche la taglia, mi sa, Robby. Sì, 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 sono loro. Te lo ho chiamato. Qua da me, qua da me. Eh, Robby, sei da solo. Aspetta, aspetta, forse riesco a tornare. Dammi un secondo. Se escono li ho, eh. Ma dove cazzo sono? Ti holdo, vai, vai, corri. Ti holdo, ti holdo, ti holdo. Non ti prendono. Sopra, sopra. Te lo hito. Terra morto. No, ce la maschera, ce la maschera. Vai, 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 che ce la maschera. Vai, lo shop a sinistra, eh, se vuoi shoppare. Minchia, stavo per dire... Daci, minchia. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Bravo, bravo. Andato? No, aspetta, adesso mi te vieni. Non voglio sprecare l'autoresco, secondo me è claccia. Questo era sbagliato che sicuramente qualcuno li spara dall'altro lato. No, secondo me stavo holdando perché ha sentito sparare, sai. Dalla torre. Oh, a terra nella... Oh, a terra in quella cazzo di torre, uno ce l'ho davanti. Eh, la bombardo, se riesco adesso la bombardo. Mi fa bombardare. Sono ancora sulla torre? No, dietro. Cazetta dietro, uno. Dai, porco diaz, ragazzi. Ma io so sfigato marcio. Mi ha cecchinato uno da dietro. No, mi ha cecchinato uno da dietro. Mi fa la torre. No, Roby! La torre! Da qua davanti, da qua davanti dalla casetta, Roby. Bravo. Mi ha cecchinato uno da dietro. Era one shot sto qua, giuro. Non so da dove però, eh. Se l'ho sbagliato io, minchia. Ti dicevo la torre. Non mi riuscivo a dire... Cioè, il mio cervello in quel momento non riusciva a dire dalla casetta dopo la torre. Dai, là, cecchino. Davanti a noi, davanti a noi. Doi dritto la mia freccia. Sono due, sono due. Da destra anche sparano. No, sono loro, sono loro, è lui. Là in due erano, Roby. Io crosso. No, uno qua in open. Qua da me in open uno. Guarda che sfiga marcia, ragazzi. Non riuscivo... Mi sparano qui da destra a me? Eh, meno male, infatti, ho crossato. Io holdo qua, holdo qua. È morto. Da me devi guardare me. Fatti tutti e due. Mi stanno sparando gli altri. Ma ragazzi, non è possibile. Spara questo, Roby, che sei restato. Oh, io ragazzi, però, ve lo giuro. Ve lo giuro. Vai, vai, vinci, vinci, vincila, vincila, Roby, vincila. Secondo me ti com'è di andare sotto nell'acqua, Roby. Però poi devi girare da sinistra, non puoi più salire, se no. Vai. Ma perché gioco ancora a sto gioco io? Perché gioco ancora? Vincita, ragazzo. Ragazzi, non ho già... Ok. Curati. 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 Non ci credo, ho finito i colpi. Ho finito i colpi, Cristo santo. Basta, basta. Ho visto già troppo questo game. Ho visto già troppo. Grazie, Roby. Non dico altro. Ho visto già troppo. Ho visto già troppo di quel gioco di merda. Ho già visto troppo, però. Questa è la sala, ora è uno splendore. Questo, ragazzi, è uno di quei endgame che devo far vedere a para. Bisogna, bisogna... Questo deve arrivare a para, raga. È un endgame che deve arrivare a para. Perché questo è incredibile. Roby è così, Roby è genuino e spontaneo. Quando arrivano questi endgame così, non puoi fare altro, ragazzi, che chinarti e dire... Ok.